il pubblico ha deciso che il vip che deve immediatamente abbandonare la casa del grande fratello ciao a tutti ragazze e ragazze bentornati sul mio canale io sono giovred e oggi parliamo del grande fratello vip 13esima puntata vediamo chi è stato eliminato serata ricca di sorpresa nella casa del grande fratello ma anche di grandi ritorni una di queste valeria marini che dopo essere entrata per due volte in questa edizione per avere dei confronti con alcuni personaggi è tornata nuovamente nelle vesti di concorrente anche serena enardu ha fatto ingresso nella casa per avere un confronto con patrick e montovoli ma vediamo chi è stato l'eliminato di questa votazione tra pago e licia ad abbandonare la casa del grande fratello vip nella tredicesima puntata è stato pago che ha abbandonato la casa di tutta fretta senza salutare quasi nessuno e voi che cosa ne pensate di questa eliminazione scrivete nei commenti e ditemi la vostra per il momento concludo il video se vi interessa iscrivetevi al mio canale per altri news un grosso abbraccio da joe red iscrivetevi al mio canale per il nostro canale per il nostro canale per il nostro canale per i ciao 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 Grazie a tutti.